Cambiati i piani per il vecchio ponte che collega Lido di Fano e la Sassonia. Giovedì 28 maggio verrà infatti rimosso e smantellato e non spostato più a monte verso la Darsena Borghese come proposto in passato dal consigliere del PD Rosetta Fulvi. Una decisione presa dalla Giunta che ha scelto un altro tipo di percorso. Se vogliamo riagganciare i quartieri della Darsena Borghese di immaginare una nuova passerella magari in legno lamellare o in altro materiale che potrà essere prevista nel 2016 e comunque ci lavoreremo perché chiaramente questo tipo di interventi non risultano altrettanto prioritari come quelli manutentivi ma abbelliscono e svolgono delle funzioni importanti per la città. Buone notizie annunciate dal sindaco Massimo Seri anche per la pista ciclabile Fano Fosso Segliore. Ieri chi ha avuto modo di passare con la macchina sulla stratale e rivolgere lo sguardo verso il mare si sarà accorto che le luci erano accese. È stato un collaudo ma il collaudo è a fine lavori quindi si può dire che i lavori della ciclabile e dell'illuminazione sono terminati grazie al lavoro di Aset e Spa e faremo un'inaugurazione i primi di giugno aspettiamo le elezioni e un debitare che vengano mal interpretate perché poi l'obiettivo è quello di dare un servizio e una fruibilità della pista ciclabile tanto attesa e gradita dalla cittadinanza. A chi ha fatto un pizzico di polemica sui lampioni va precisata una cosa che le ferrovie del Stato non consentono le installazioni di lampioni che si rivolgono verso la ferrovia quindi non potevano essere messi dalla parte della statale avevamo verificato anche, pensato l'ipotesi di luci dal basso verso l'alto per ragioni di sicurezza non si possono fare quindi il progettista giustamente aveva previsto la canalizzazione per l'illuminazione in quel lato ci eravamo impegnati di fare quest'opera, di illuminarla lo abbiamo fatto e adesso iniziamo a raccogliere i frutti. Fra due settimane invece ripartiranno i lavori sul tratto di ciclabile Trave Fenile quindi